Sviluppare l'inclusione sociale di minori potenzialmente a rischio grazie ad una reale e profonda conoscenza del digitale e delle opportunità che può offrire in una futura ottica professionale. E' questo l'ambizioso obiettivo del progetto Online for Life, educazione digitale e inclusione sociale presentato a Giulianova, che grazie alla collaborazione tra la cooperativa sociale 3M e l'Istituto Castorani di Giulianova, comunità educativa per minori, sarà possibile promuovere un rapporto virtuoso e razionale con il web e le sue logiche, facendolo diventare il mezzo trainante per intessere rapporti proficui con altri ragazzi, scoprire occasioni di formazione e puntare alla costruzione di una carriera nel digitale. Mira a sensibilizzare i ragazzi a un uso consapevole dei social, a fargli capire quali sono i potenziali rischi, oltre a potrebbe essere un'opportunità lavorativa per il loro futuro. La realizziamo qui all'Istituto Castorani di Giulianova ed è rivolto a ragazzi dai 13 ai 16 anni, quindi in fase adolescenziale. Saranno circa una quindicina i ragazzi dell'Istituto Castorani che prenderanno parte al progetto. Progetto veramente importante e qualificante perché siamo in un periodo in cui l'utilizzo dei social è veramente molto delicato e soprattutto siamo in un momento in cui in questa realtà abbiamo tantissimi ospiti che proprio sono in età adolescenziale e per cui è assolutamente appropriato in questo momento svolgere questo progetto. L'iniziativa è stata promossa dall'assessorato alle politiche sociali della regione Abruzzo. È un progetto speciale, rientra nell'ambito del nuovo piano sociale regionale. Ho ritenuto che sia un'iniziativa pregevole e quindi l'abbiamo voluto accogliere perché appunto va a formare ragazzi svantaggiati e fragili a conoscere il web che sicuramente è fondamentale per entrare nel mondo del lavoro ma ci sono anche dei pericoli e quindi vogliamo anche prevenire questi pericoli. L'occasione è stata anche quella di fare con l'assessore regionale all'istruzione quaresimale il punto in vista della riapertura delle scuole in programma la prossima settimana. Ci sono tutte le condizioni per ripartire alla grande, sappiamo quanto è importante il mondo della scuola. in questi anni ha sofferto un po' a causa della pandemia, spesso si è dovuto ricorrere alla DAD con tanti pregiudizi perché la didattica a distanza rispetto a quello in presenza crea dei danni non solo a livello formativo ma anche a livello relazionale. Quindi speriamo che non ci siano altri problemi di questa natura e tutto possa andare per il meglio.